a due minuti da dedicarmi è un piacere conoscerla almeno telefonicamente abbiamo sempre per ragioni di covid dovuto organizzare più gruppi indipendenti partendo sia dall'orchestra che dal coro in questi mesi come dicevo a un collega forte crisi di astinenza ci manca anche andare al bar nell'intervallo per prendere un caffè insieme ci manca contatto con il pubblico ci manca sentire l'applauso vedere la sala piena partire con il nostro pullman da Carmagnola perché quella sera lì ci dovevamo vestire bene poco ma sicuro tacchi e andare a teatro perché a teatro ci va così speriamo di tornare presto ad avere tutto ciò ma nel frattempo per continuare a fare musica stiamo facendo partire una stagione in streaming questa iniziativa per noi è molto molto importante vi sono molto vicino con tutto il cuore perché quello che date voi con la musica è unico e ripetibile servizio di segreteria telefonica